Ha capito signora Tazzi, io regalo i fiori all'Enrica e quella li taglia perché le saranno le bacchette per gli spiedini. Ma l'Enrica è una donna pratica, è bella via, d'altra parte. Allora sa che negli spiedini ci mette anche la pancetta, sono buono. Ma cosa vuole che mi interessi della pancetta, signora Tazzi? Si mette pure lei, oh. Insomma mi deve dire come devo fare a conquistare il cuore di questa donna. Ci vorrebbe un miracolo, che ne so, una magia. Una magia. Bella mia, risolto, vada avanti che pensi in me, come si dice in Francia, ci penso io. Vabbè, amici noi continuiamo, continuiamo la stagione e naturalmente colleghiamoci allora con Roberto Ceriotti per parlare di sport. Roberto, ci sei? Roby? Grazie per la vita, Roberto Ceriotti è sempre presente quando c'è un avvenimento sportivo da commentare. Ci troviamo al campo sportivo dove... Ciao Maria, ciao Maria, risponda, sono Terencio il suo amico Portinè, bella mia. A parte il fatto che io non sono un suo amico, eh, adesso che cosa vuole? Vorrei sapere che cosa vuole adesso da me. Oh, niente, volevo comunicarle che la mia Cesila l'ho messa bella lì a dieta. E mi disturba per questo, scusi. Ma sì, volevo dirle che in tre giorni ha perso sei chili, non è che l'ha trovati lei per caso? Ma lo scherzavo, dai! Ah, guardi, signor Terencio li avrà anche persi, però mi serve un po' nervosa ed affamata anche. È vero, è vero, signor bella mia, pensi che stamattina è arrivato il postino e con un morso gli ha staccato un orecchio. Oh, e che cosa l'ha detto? Niente, gli ho detto Cesila, non ti preoccupare, perché l'orecchio del postino al massimo, al massimo, sono trenta calorie. Al massimo con una corsetta li rifai fuori tutti. Ma basta, ma se ne vada, lei è un pazzo isterico, Terenzio! Non è possibile! Incredibile, guardi cosa ho trovato, bella mia! Ho trovato qua, guardi, è un libro di una vecchia parente di Magda, dove praticamente c'è scritto tutto quello che bisogna fare per far innamorare una donna, no? Ecco qua. Adesso basta leggere. Ma che ce ne facciamo di queste? E niente, facciamo una pozione d'amore e la facciamo bene all'Enrica, no? Guardiamo gli ingredienti. Sì, sì, sì. Grasso animale. Come hai messo il grasso animale? Ma la pianti! Mi dica gli altri ingredienti, su! No, mi facciamo senza grasso animale. Ah, gli altri sono facili, guardi, qui scuglio, varrucchio e rubuglia. Facili! Come li prendo io questi rubugli? Ma è, bella mia, in realtà è già pronto, perché ce l'aveva Magda nell'armadietto dei vicinali. Perché lei è un po' una maga, che io, mi, cioè, io so che lei è una maga, ma lei non sa che io so che lei è essere... Sì, 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 vabbè, ho capito, ho capito, ho capito. Vieni a mettere, come facciamo a farglielo bere? Tre, quattro gocce del caffè, va mille. Dio Enrica, vuole caffè? Eh no, il caffè mi fa senso. Che bello un succo di frutta sarebbe! Eh, quello sì, Grasso, quello mi fa piacere. Il succo di frutta, adesso, no, perché noi, Enrica, beviamo sempre verso quest'ona qua un succhino di frutta, diciamo. Eh, vabbè. Ecco il succo di frutta! Un succo di frutta a quest'ona qua, è pronto? Il succo di frutta è pronto? E poi la mia è pronta, pronti? Ecco qua. Grazie, tu hai parlato? Vieni, vieni, vieni. Oh, che buono. Enrica, bambina. Eh? Sì. Non deve dire niente, è una bella mia. Bene? Sì. Non mi deve dire niente? Sì, che bisogna comprare lo sturo lavandini perché si sono intese delle tubature. Ma fate effetto queste lesire, ma scusi. Via, via, tempo al tempo, passi all'altro servizio. Via. L'altro servizio? Sì, previsione del tempo. Tempo. Tempo al tempo. Buon pomeriggio, carissimi telespettatori, vado subito a leggervi le previsioni per le prossime 24 ore. Anzi, una grande notizia. Danno in arrivo addirittura il ciclone Ugo, in arrivo nelle zone interne d'Italia. Su, dai! Ma chi scrive queste cose? Ma chi vuoi che ci creda il ciclone Ugo in Italia? Il tifone! Cranza, non so se voi avete mai sentito. Quello sì che è stato un gran tifone, ha portato via tutto. Anche mio nonno l'ho ritrovato dopo a vent'anni, ma... No, per favore, per favore, per favore! Cosa fai? Ma sto... ma sto parlando di cose serie! Ma cosa vuoi della mia vita? Ma chi sei tu? Cosa fai? Cosa è sta roba qui? Ugo? Ma tu saresti il ciclone Ugo? Bene, grazie anche al meteo! Onofrio! Onofrio! Hai preso tu il mio sonnifero, quello che c'era dentro nell'armadietto? Il sonnifero? Il sonnifero li abbiamo dato! No, 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 no! Gli ho dato tutto, che succede? Eh, non lo so, dormirà fino a un, due o tre mesi... Ragazzi, cartone animati! Era un sonnifero! Sì, mi sono sbagliato, pensavo fosse la pozione d'Amarri... Un fenomeno incredibile sta sconvolgendo il mondo della scuola. Gli intere classi di ragazzi sono apparse improvvisamente dentro un film. Gli insegnanti rancolano nel buio, ma circola una voce. E' tornato Chuck Junior, il cinema fatto dai ragazzi. Ogni domenica alle 10.10, Italia 1. Tania Magiche Vacanze E partire per i tropici da arrivare qua E tuffarsi dentro al mare e fare cia 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 Le magiche vacanze, i magici costumi che cambiano colore Tania ce li ha! Tania Magiche Vacanze Le Tania Magiche Vacanze hanno gli incredibili costumi che in acqua cambiano colore Tania, sei mitica! Naviga anche tu con Tania Magiche Vacanze da... Giochi preziosi Il Wurster più buono della galassia è Ottawa Oggi anche 100% vitello Ottawa, più grande è, più gusto c'è È prezzemolo il gelato San Montana Nel gelato di vanilla il bastoncino va Tra una ricca copertura di cacao Entra un morbido biscotto ai cinque cereali È prezzemolo, è prezzemolo È gelato San Montana È prezzemolo Nessuno è più goloso Nessuno gli resisterà McDonald's Happy Meal presenta... Il giro del mondo in 30 Snoopy Dall'America all'Alaska Dall'Italia all'Inghilterra 30 paesi diversi 30 Snoopy diversi Collezionami, ce n'è uno in ogni Atomy Andiamo tutti quanti in cima ad un volcano Ciolavo di latte lo cioccolatizziamo Ciocco Crispi, schicchi di riso soffiando Col super cioccolato Entri in eruzione Esprigione, energia per la spedizione Ciocco Crispi, sei eccezionale Atture senza uguale Croca la mattina solo se c'è cioccos Cereale super ciocco, croco cioccoloso Croca nella bocca il cereale più goloso Cioccos, cioccos Cioccos, cioccos Cioccos di Kellos La parte croccante di una colazione completa Barbie bolle incantate Molte già per te Barbie bolle incantate Fai mille bolle Sempre più belle Barbie bolle incantate Metti il sapone, tira la stella Mille bolle lei farà Ma quante bolle Tutte per te Barbie bolle incantate Che divertimento Barbie bolle incantate Un mondo di bolle Tutto per te Lupin, il mago del furto Si prende gioco dei suoi inseguitori Addio Zanzà, ciao ciao Con queste antiche profezie Possiamo conoscere il nostro futuro Il genio delle mille risorse Deve superare se stesso Tovi di certe idee dalla testa Per sconfiggere la setta di Nostradamus Chiunque tenti di ostacolarci Merita di essere distrutto Aiuto Salvatemi In prima visione su Italia 1 Lo pen e le profezie di Nostradamus Lunedì alle 20.45 Quanti sogni hai? Prendili e vedrai che poi sai Crescerai Non mollare mai Credi in quel che fai Così sai Riuscirai Dai Raccogli la tua grinta Accendi Quel che fai Vivrai Dei giorni sempre più stupendi Prova e vedrai Che volendo riuscirai Tu riuscirai E riuscendo crescerai Tu riuscirai E riuscendo crescerai Sì, crescerai E da allora riuscirai Riuscirai Prendi il mondo E vai 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 Prendi il mondo Prendi il mondo E vai E vai Prendi il mondo Prendi il mondo Prendi il mondo E vai Prendi il mondo farà. Prima parte.